Ha adescato sui social una giovane donna della bassa padovana con il pretesto dell'amicizia, ma ben presto Antonio Verdicchio, 29enne fiorentino con precedenti per reati contro il patrimonio ed altre amenità, ha convinto la donna a dargli qualcosa in più. I due non si sono mai incontrati, ma incautamente la donna ha inviato a Verdicchio delle sue foto in pose o sé. Il giovane da prima con la scusa dell'amicizia si è fatto pagare delle ricariche telefoniche, ma poi quando la donna ha rifiutato di continuare a pagare ha iniziato a ricattarla minacciando di pubblicare le sue foto sui social. La donna a questo punto ha ceduto al ricatto, ma dopo aver pagato 3.600 euro disperata si è rivolta ai carabinieri che in breve hanno arrestato Antonio Verdicchio sequestrandogli computer, pendrive, scheda telefonica, determinante il coraggio della giovane donna che ha deciso di sporgere denuncia. Assolutamente, è una donna che ha avuto molto coraggio perché ha vinto probabilmente la paura, ha vinto la vergogna di riferire informazioni, notizie intime della sua vita privata, ma che ci hanno permesso di assicurare alla giustizia un malvivente che la ricattava in maniera vile minacciando di pubblicare delle foto e dei video con cui si era scambiato con la donna e che erano stati consegnati in assoluta buona fede. Ora si teme però che Antonio Verdicchio abbia ricattato altre donne. Dal suo computer forse emergeranno altre foto e la sua posizione potrebbe aggravarsi di molto. aver divulgato il profilo con cui quest'uomo si presentava su un noto social network con la speranza che quelle che possono essere potenziali vittime si facciano avanti e denuncino un eventuale reato. Un caso finito bene ma quello dei ricatti sessuali è un commercio che sulla rete è più vasto di quel che si può credere e per questo è fondamentale la prudenza quando si concede l'amicizia e scatti personali a degli sconosciuti. La denuncia in ogni caso spesso serve anche a recuperare le foto carpite con l'inganno nella completa tutela della privacy delle vittime. L'invito alla prudenza è fondamentale sulla rete, su internet, le amicizie, quelle che sono le conoscenze virtuali a volte come nella vicenda che abbiamo trattato dimostrano che tutte le persone si rivelano essere quello che sembrano. In questo caso quindi avevamo un uomo che si era presentato come una persona estremamente gentile e cordiale e invece alla fine si è rivelato essere un ricattatore che ha estorto la somma di 3.600 euro a una povera donna. È un consolatorio anche il fatto che voi abbiate recuperato queste immagini che non possono più finire in rete? Assolutamente sì, a dimostrazione del fatto e dell'importanza di sporgere denuncia e di presentarsi ai carabinieri quando ci si sente disperati o minacciati come è successo in questa circostanza. Grazie. Grazie. Grazie a tutti